Ciao io sono Fernau, e sono un gran figo Amo il mio divano più di ogni altra cosa e a Natale gli regalo un play di nuovo Questo è l'istituto Fermi, la scuola giusta per il futuro Tantissime materie interessanti, chimica e scienze, elettrotecnica, economia, turismo, aeronautica e naturalmente informatica, tutte discipline per il futuro Ci vediamo a gennaio Grazie a tutti